Ormai imminenti i lavori per la sostituzione del ponte di Fiorano. Anas ha comunicato la data. Intervento in arrivo, questa volta della provincia, sul ponte Barcotto a Costa Volpino, che per tre giorni resterà chiuso a metà. Procedono ad Ardesio i lavori per riqualificare il parco giochi del capoluogo. Gli spazi saranno pronti per maggio. Nel frattempo il Comune ha pubblicato il bando per la gestione. In occasione del settantesimo una mostra ripercorre la storia del Carnevale di Clusone, tante fotografie ma anche i manifesti. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. In apertura abbiamo la cronaca. Ben nove persone coinvolte nell'incidente stradale che è avvenuto oggi lungo l'asse interurbano di Bergamo. Lo scontro si è verificato poco prima delle 13, ha coinvolto più veicoli. Per i soccorsi sono intervenute l'automedica e tre ambulanze. I feriti, nessuno in gravi condizioni, sono stati trasportati agli ospedali Papa Giovanni di Bergamo, Bolognini di Seriate e Umanitas Gavazzini di Bergamo. L'incidente ha mandato il traffico in tilt con una lunga coda tra Seriate e Bergamo. Solo verso le 15 la situazione ha iniziato a tornare lentamente alla normalità. Intervento del soccorso alpino questa mattina nel territorio di Valgoglio. Due giovani sono rimasti bloccati nella zona del Lago Nero a 1900 metri di quota. Erano partiti ieri e avevano deciso di pernottare in quota. La nevicata di stamattina però li ha messi in difficoltà. Hanno chiesto quindi aiuto. Dopo l'attivazione una squadra del soccorso alpino della stazione di Valbondione è salita con la funivia messa a disposizione da Enel. I ragazzi sono stati raggiunti, valutati e accompagnati a valle sempre con la funivia. L'intervento si è concluso alle 12. Il soccorso alpino raccomanda di controllare le previsioni meteo prima di programmare le escursioni e di valutare sempre con molta attenzione. E per il maltempo è allerta meteo in diverse zone della Lombardia. Le forti piogge che stanno interessando la nostra regione, destinate a continuare anche nei prossimi giorni, hanno portato la protezione civile ad elevare i livelli di attenzione. In particolare sulle orobbie bergamasche è stato emesso un codice arancione, criticità moderata, per rischio idrogeologico e un codice giallo, criticità ordinaria per rischio idraulico. Il documento della protezione civile della Lombardia segnala che un'estesa area di bassa pressione in avvicinamento dall'Atlantico ha attivato un flusso di correnti umide sud-occidentali in quota che nelle prossime ore tenderà ulteriormente a intensificarsi favorendo un'accentuazione delle precipitazioni sulla regione. La quota neve per la giornata di domani si collocherà tra 1200 e 1400 metri sui settori settentrionali delle Alpi e tra 1400 e 1600 metri sui settori meridionali e su quelli prealpini. Abbiamo argomento, parliamo adesso dei lavori a due ponti del nostro territorio, anzitutto quelli molto attesi per la sostituzione del ponte di Fiorano sopra la statale 671 della Valle Seriana. Finalmente c'è la data di inizio. È ormai imminente l'inizio dei lavori per la sostituzione del ponte di Fiorano. L'ANAS ha comunicato attraverso un'ordinanza le modifiche alla viabilità sulla strada statale 671 della Valle Seriana per i lavori di rifacimento del cavalcavia danneggiato una prima volta nell'estate del 2021 e una seconda lo scorso 19 novembre. Tra la notte di sabato 17 e la mattinata di domenica 18 febbraio è prevista la demolizione dell'attuale ponte. Successivamente verrà installato quello nuovo. L'ordinanza prevede la chiusura al traffico veicolare in entrambe le direzioni della statale, dallo svincolo per Gazzaniga a quello per la Val Gandino. La chiusura al traffico è prevista tra le 22 di sabato 17 e le 6 di domenica 18. Il ponte di Fiorano era stato danneggiato nella parte sottostante da un mezzo pesante nell'estate del 2021 ed era stato chiuso per motivi di sicurezza. Dopo oltre nove mesi era stato riaperto a senso unico alternato fino al secondo danno subito da un altro mezzo lo scorso novembre e da allora è chiuso al traffico. Lavori imminenti anche sul ponte Barcotto, la struttura che attraversa il fiume Olio a Costa Volpino, ci saranno anche delle limitazioni alla viabilità. Lavori in arrivo sul ponte Barcotto lungo la strada provinciale 55 a Costa Volpino. La provincia di Bergamo ha infatti programmato un intervento di riqualificazione che porterà anche a una parziale limitazione del transito. Da domenica 11 febbraio a martedì 13 il ponte potrà essere percorso solo da Costa Volpino verso Pisogne. L'altra corsia sarà infatti chiusa. I lavori sono stati suddivisi in due lotti. Dal settore viabilità della provincia di Bergamo spiegano che in questa prima fase verrà realizzato un nuovo sistema di scarico delle acque piovane per limitare gli allagamenti che si verificano sul piano viario e sui marciapiedi ogni volta che avvengono consistenti precipitazioni. Per eseguire i lavori sono stati scelti i giorni che coincidono con la chiusura delle scuole per carnevale così da limitare i disagi. Il successivo lotto di interventi è stato programmato per agosto contando sulla riduzione di traffico per le ferie estive. Verranno sostituiti i giunti di dilatazione con particolare attenzione a quelli presenti sui marciapiedi che negli ultimi anni hanno subito rotture o malfunzionamenti. L'importo complessivo dei lavori è di 308 mila euro. Ma non è tutto. Viste le piene del fiume Olio avvenute a fine 2023, la provincia sta valutando con l'impresa esecutrice di provvedere alla rimozione dei tronchi d'albero rimasti incastrati tra le pile del ponte, una lavorazione non prevista a progetto. Per consentire la prima parte dell'intervento, la corsia di marcia da Pisogna e verso Costa Volpino sarà chiusa al traffico dalle 8 di domenica 11 febbraio alle 18 di martedì 13. In alternativa bisognerà usare la provinciale 510 di Brescia e la statale 42 per raccordarsi di nuovo con la provinciale 55. Rimaniamo nelle vicinanze a Pisogna. Entro l'estate dovrebbe essere completato il collegamento tra il Lungolago e la pista ciclopedonale Vello-Toline. Sentiamo cosa ci ha detto il sindaco Federico Laini. Una buona notizia per Pisogna. Sono ripresi da pochi giorni i lavori per la pista ciclabile Govine-Toline. Sì, sono finalmente, mi permetto di dire, ripresi i lavori. Sono passati mesi da quando sono stati sospesi, però mi permetto di sottolineare il fatto che questi mesi non sono stati buttati via. Questi mesi sono serviti all'amministrazione per mettere in sicurezza il Comune anche in ordine alla responsabilità. Noi oggi riprendiamo i lavori con una ditta del territorio grazie al nuovo Codice degli Appalti che ci ha consentito di fare una gara diversa rispetto a quella che era stata fatta all'epoca. Riprendiamo i lavori anche con la certezza che le responsabilità sono consolidate. Quindi ad oggi, quando ci sarà una causa in Tribunale che a questo punto instaurerà il Comune di Pisogne, è più che evidente di chi sono le responsabilità perché questi mesi sono serviti a costruire tutto questo percorso. Abbiamo reperito le risorse, sono ripresi i lavori, come dicevo, grazie ad una gara che ci ha consentito di invitare i cinque ditte di cui conoscevamo la professionalità, è risultata vincitrice di scavi serioli e lunedì scorso sono ripartiti. Grazie tra l'altro allo sconto che in serie di gara è stato fatto, riusciremo a fare anche tutta l'illuminazione pubblica da dove sono iniziati i lavori fino a toline, quindi nella sfortuna di questo appalto almeno abbiamo avuto il beneficio di questo ribasso che ci consentirà di fare tutta l'illuminazione. Il cronoprogramma prevede circa 120-150 giorni di lavori, quindi finalmente a inizio estate, se non a inizio estate e poco dopo avremo finalmente la pista ciclopedonale Govini e toline a disposizione dei cittadini e dei turisti e poniamo fine a questo capitolo abbastanza travagliato di opere pubbliche del Comune di Pisogne. Quanto è lungo il tracciato? Il tracciato è lungo circa 500 metri, però è fondamentale perché collega il lungolaro di Pisogne con la ciclopedonale Vellotoline, quindi seppure la lunghezza non è così importante, diciamo così, l'opera pubblica è assolutamente strategica. E poi c'è anche un altro aspetto che ci ha preoccupato in questi mesi, che era la sicurezza di quel cantiere. Già con la nuova direzione lavori eravamo riusciti a mettere un po' più in sicurezza facendo delle forzature nei confronti della vecchia impresa. Adesso di quella impresa lì siamo riusciti a liberarcene, escuteremo le fideiussioni, faremo quello che dovremmo fare nei loro confronti, però la nuova impresa ci ha consentito anche già di mettere in sicurezza, quindi già oggi percorrendo quel tratto si vede in maniera che è importante la differenza tra due settimane fa e adesso. Per la prossima primavera sarà rimesso a nuovo il parco giochi di Via Locatelli ad Ardesio. I lavori sono in corso e nel frattempo il Comune pensa alla gestione. Proprio in questi giorni è stato pubblicato il banto. Ad Ardesio procedono i lavori per la riqualificazione del parco giochi comunale del Capoluogo. Si sta già pensando in prospettiva all'apertura e alla gestione. Sì, innanzitutto giova a ricordare che la riqualificazione del parco giochi del Capoluogo fa parte del progetto ampio del bando Borghi da 1.600.000 euro che riguarda proprio una serie di interventi finanziati dallo Stato al Comune di Ardesio. Dopo l'inaugurazione dell'area camper, dell'area di sosta dei camper attrezzata, la seconda opera finanziata dal bando Borghi, il PNRR, proprio la riqualificazione del parco giochi. La base d'appalto era di circa 400.000 euro. Gli interventi sono iniziati immediatamente a inizio anno a gennaio. Nel frattempo, pensando alla gestione del chiosco bare e soprattutto dell'area verde, la manutenzione, la pulizia, l'apertura e la chiusura, ci siamo posti nell'idea di appaltare con un bando specifico la gestione del parco con il relativo chiosco. Proprio il 6 febbraio è stato pubblicato sul sito del Comune il bando per l'appalto, che scadrà il prossimo 7 di marzo, le offerte andranno fatti attraverso il portale di regione che è il Sintel e la base d'asta per la giudicazione di questa gestione è di 3.000 euro annui. Durata del contratto 6 anni, con la possibilità di insindacabile giudizio dell'amministrazione, che ci sarà fra 6 anni, di prolungare o meno il contratto di altri 6 anni. La cosa che tengo a sottolineare sulla scorta di quest'idea di nuovo parco è che quello che abbiamo immaginato è un parco giochi per i bambini, soprattutto per i bambini, infatti saranno molti giochi inclusivi finanziati da un bando specifico di regione Lombardia per un valore di 30.000 euro e quindi pensiamo all'idea di un parco giochi dedicato a loro, quindi non a un parco giochi classico dove fare concerti di musica, dove fare baldoria, dove fare ritrovi casinisti. È proprio un parco giochi dedicato alle famiglie, ai bambini e quindi ci aspettiamo che anche la gestione possa essere affidata magari a una famiglia con bambini che possa ricavarne anche da vivere, anche se l'obbligatorietà dell'apertura è solamente da maggio a settembre, dopodiché tutto il resto del periodo è facoltà del gestore se aprire o meno il chiosco, certo sicuramente l'apertura e la chiusura invece del parco deve essere assicurata. In sintesi cosa prevedono i lavori? I lavori prevedono il posizionamento e la riqualificazione di tutti i percorsi, dei giochi, delle alberature, del posizionamento di telecamere di controllo, il rifacimento completo dell'impianto di illuminazione con nuovi lampioni, la realizzazione di questo chiosco che avrà dei servizi igienici sempre aperti a disposizione del pubblico anche quando il chiosco sarà chiuso e la sorveglianza chiaramente da parte dei gestori con apertura e chiusura dei cancelli. I lavori dovrebbero essere conclusi quando? Il termine per la conclusione dei lavori, diciamo così dal punto di vista ottimistico, dovrebbe essere primo maggio. Nel bando noi abbiamo previsto l'apertura e l'inaugurazione del nuovo parco e del chiosco al massimo entro il 15 di maggio. Un lasso di tempo un pochino più largo per avere la certezza che anche i gestori del parco, dovendo attrezzare i locali del chiosco, si organizzino in tempo per l'apertura. Con il bando di housing sociale da 14 milioni di euro, la regione Lombardia mira a dare alloggi anche nelle zone montane alle persone che lavorano nell'ambito dei servizi ma che faticano ad accedere al mercato degli affitti privati. Ne ha parlato in questi giorni l'assessore regionale bergamasco Paolo Franco. È stata presentata l'edizione 2024 di Agri e Slow Travel Expo, Fiera dei Territori, vetrina internazionale che promuove il turismo lento e sostenibile in programma dal 16 al 18 febbraio alla Fiera di Bergamo. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche gli assessori regionali al turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali e alla casa e housing sociale Paolo Franco. Ha sede a Bergamo, ma è una sede non solo virtuale, ma che vuole ed è arrivata in tutto il mondo. L'avere sostenuto sotto tutti i profili questa fiera, e alla nascita di questa fiera, grazie anche alla volontà, alla passione della Stefania Pendezza, oggi ci porta in un'altra location, la nostra di Regione Lombardia, dove il rilancio di un a tre giorni, dove vengono validati tutti i rapporti internazionali per offrire questo turismo lento, per cui quasi nessuno all'inizio ci credeva, è che oggi è non solo un vero volano, ma è un fattore importante che permette di mettere sostenibilità, sostenibilità, mondo dell'agriturismo, le aziende, il mondo delle imprese, i parchi, cioè tutto ciò che è in rete turistica in un modo molto bello da vivere e da appassionarci. L'assessore Paolo Franco ha voluto sottolineare anche gli investimenti messi in campo da Regione Lombardia per garantire gli alloggi anche nelle zone montane e nei borghi turistici. Inoltre come assessorato alla Casa, all'Ausio Sociale, noi oggi ragioniamo anche in termini di prevenzione, laddove questa attività di turismo, grazie proprio a una fiera come questa, in particolare all'eccellenza di questa fiera, va a creare una serie sicuramente di sviluppi dal punto di vista turistico e quindi delle necessità di servizi in territorio che magari non riuscivano neanche a gravare dal punto di vista dello spopolamento. Noi dobbiamo prevenire quindi il bando di Ausia Sociale che si tratta per coloro che erogano servizi, quindi per i dipendenti dei servizi, per gli studenti ma anche per tutto ciò che è necessario dare supporto perché poi su questi territori la gente che va a offrire servizio c'è e deve avere anche la sua casa e quindi il bando di Ausia Sociale appena pubblicato sul Burle va in questa direzione con oltre 14 milioni di euro a cui proseguiranno altri proprio anche a sostegno di situazioni territoriali e laddove magari l'incidenza oggi abitativa è molto più bassa ma che grazie al turismo può essere elevata e quindi coloro che vanno per trovare quelle che sono le erogazioni e i servizi potrebbero non avere l'allogio. Acclusione sotto i portici di piazza Orologio una mostra consentirà in questi giorni di ripercorrere la storia del carnevale giunto, lo ricordiamo, alla settantesima edizione. L'inaugurazione è in programma domani sabato 10 febbraio alle 15 la mostra sarà poi visitabile nei giorni del carnevale. Per il settantesimo del carnevale di Clusone anche una mostra che ripercorre la storia di questa manifestazione che ormai è a pieno titolo tra le tradizioni della cittadina. A curare la mostra è stata Romina Percassi che cosa avete voluto mettere in questo ambiente, in questa sala? Allora, come potete vedere ci sono moltissime fotografie le abbiamo recuperate dal nostro magazzino praticamente la prima manifestazione risale al 1948 che però, ahimè, non siamo riusciti a trovare nessun tipo di materiale. Siamo risaliti a quella data perché abbiamo trovato invece un manifesto che parla del secondo corso mascherato che è nel 1949. Poi abbiamo, da lì in poi, siamo riusciti a recuperare un sacco di fotografie che potrete venire a vedere nella mostra molte fotografie fanno parte dell'archivio dei Cristilli è un nostro fotografo del paese altre fotografie invece fanno parte ancora del nostro archivio siamo riusciti a recuperare alcune fotografie dei Baradei Allegger che sono praticamente i protagonisti del Carnevale clusonese potete venire in questa sede in Piazza dell'Orologio vedere i famosi cappelli dei Baradei Allegger e altre fotografie e infatti noi vorremmo riportare alla luce proprio il carro di Carnevale che i Baradei Allegger avevano realizzato nel 1950 che era quello del Re Uovo già noi siamo riusciti a creare una mascotte che è Ovelix e l'abbiamo riportata alla luce diciamo così l'anno scorso con il carro di Carnevale della Proloco di Clusone non solo fotografie ma anche del materiale ad esempio i manifesti che annunciavano il Carnevale sì abbiamo recuperato dei manifesti dal 1949 fino al 1967 circa e sarà molto curioso venire ad osservare perché potrete vedere i premi che allora si davano ai carri si partiva dagli 8.000 lire per arrivare tipo a una somma di 100.000 lire e poi anche solo la grafica molto particolare ci saranno dei disegni molto belli magari anche da riuscire a recuperare abbiamo detto prima edizione 1948 quindi qualche edizione lungo il tempo è saltata sì allora la vera sfilata dei Carri Allegorice a Clusone incominciò nel 1953 ovviamente prima c'erano dei vari corsi mascherati però i carri allegorici non c'erano anzi Clusone partecipava ad Albino poi sono riuscita a recuperare un articolo del 1983 che diceva che per tre anni il Carnevale non si sa per che motivo era saltato quindi si presume che l'80 l'81 e l'82 non sia stato fatto il Carnevale prendono il via questa sera i venerdì del CAI di Albino con Immaginazione serate dedicate al mondo della montagna si parlerà di viaggi mountain bike di soccorso in montagna ma l'attenzione in particolare sarà concentrata sul disastro della diga del Gleo Immaginazione 2024 si parte con tanti appuntamenti legati al mondo della montagna chi saranno i protagonisti innanzitutto si ormai Immaginazione è un appuntamento storico per il CAI di Albino praticamente siamo arrivati a una edizione da tantissimi anni che facciamo questa rassegna che è una rassegna essenzialmente di viaggi di avventure ma ormai viene anche una rassegna di cultura parte proprio questa sera la prima serata dedicata alla via Decia che è un trekking della Valle di Scalve che praticamente percorre la Valle di Scalve è un percorso a tappe di 5 tappe 95 km partendo proprio dal Dezzo dove c'è una chiesa dedicata ai caduti del disastro del Galeno e percorre tutta la Valle di Scalve fino a raggiungere la diga del Galeno dunque il percorso passa da tutti i paesi più importanti della valle quindi passa da Codere Azzone Dezzo Lago Moro per tornare poi ancora a Dezio nel giro circolare la serata era fra Romelli Andrea Romelli che è uno dei partecipanti al comitato del centenario del crollo della diga del Galeno e proprio questo trekking che è stato pensato nel 2023 in occasione di questa commemorazione vuole proprio essere un'occasione di rilancio della valle dopo il disastro questa serata apre il programma di immaginazione ed è un po' correlata ad un'altra serata che è quella del 9 marzo che è dedicata proprio alla memoria della diga del Galeno non è più il centenario l'anno dopo però il centenario è stato fatto di tantissime iniziative culturali anche di altissimo livello tutte quante localizzate essenzialmente nel territorio della valle di Scalve il percorso della storia di quanto è successo cento anni fa però ha proiettato anche un piccolo filmatino che essenzialmente riporta le testimonianze dal vivo dei sopravvissuti alla disgrazia bene a completamento della serata del 9 marzo verrà allestita presso il palazzo comunale di Albino una mostra fotografica con pannelli molto grandi 2 metri per 80 che ci viene data dall'università di Bergamo che ha raccolto queste fotografie dell'epoca che ricostruirà un po' la storia di Greglino la mostra fotografica sia la mostra che anche la serata è fatta in collaborazione con la serata della cultura di Albino e alla mostra vanno organizzate le visite guidate con i ragazzi delle scuole del distretto di Albino gli altri eventi che riguardano immaginazione sono essenzialmente due percorsi di viaggio con Castelletti e Schiena che sono protagonisti spesso delle nostre serate una del deserto del Kazakistan e l'altra dedicata alle montagne del Karakorum che raccoglie alcune delle cime più alte della terra ed è una zona con ghiacciai ma di maggiore estensione una serata particolare di un certo rilievo anche per quanto riguarda il soccorso alpino e questa serata è dedicata per prevenire incidenti ovviamente innanzitutto ma anche per spiegare come comportarsi qualora ci si trovasse disgraziatamente ad avere bisogno di chiamare soccorso cosa fare e come fare quindi è stato molto utile per chi va in montagna poi c'era una serata dedicata invece al Mato Grosso dove un volontario praticamente che ha fatto un periodo in Bolivia dividendo la sua esperienza fra missioni e salite alpinistiche ci racconterà un po' questa sua avventura in questo periodo due serate alla bicicletta una di una ciclista vergamasco che è salita da Biale a casa sua fino al Capodordo il ritorno che sarà il prossimo sabato e una serata invece più con il presidente della commissione CAI del cicloturismo che presenterà oltre all'esperienza di cicloturismo anche alcune regole comportamentali per un approccio corretto rispettoso dell'ambiente e rispettoso anche degli excursionisti lungo i sentieri siamo ormai alla fine prima di salutarci i programmi di Antenna 2 questa sera alle 20.25 promo serio eventi alle 20.30 un nuovo appuntamento con il settimanale di informazione target alle 22.15 Italia Economia alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale alle 23.10 Mai Regione alle 23.50 la rubrica sport e tempo libero a mezzanotte e mezza la terza edizione del telegiornale infine l'almanacco domani è sabato 10 febbraio il sole sorge alle 7.26 e tramonta alle 17.43 la luna è nuova sorge alle 8.11 tramonta alle 18.22 la chiesa ricorda Santa Scolastica e siamo alla fine di questa edizione vi ricordo a seguire l'appuntamento con il TG Sport poi la rubrica erbe e salute e infine le previsioni del tempo grazie per l'attenzione e buona sera pronta